come state tutto bene io sono mike questo è il mio canale oggi volevo far vedere un video stupendo che è uscito questo fine settimana scorso fine settimana e spero che ve lo chiudiate non dura tantissimo se vi piacciono i video del genere commentate scrivete nei commenti così ne facciamo altri e ci divertiamo un sacco vi lascio il video ciao dai mira sotto miriamo sotto e facciamo anche lo giuro ah non si vede è problema mio ecco l'altra parte vai sì vuoi uscire la carta subito così? eh? vuoi uscire la carta subito? sì ma che gioco devi fare? vabbè devi guardare o no? guarda tu guarda e ricordala farla vedere anche a tutte le famiglie vai vai ah mi piace? sì ah scusa cosa vuoi fare? devo metterla dentro? dammi dammi la guarda faccio io ma guardi ho lasciato il primo in mezzo del pazzo che taglio? da prima sì ma me l'hanno già fatto sto trucco lo ricordo vai 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 la mette? sì che hai fatto no vabbè vai ti ricorda la carta? ah ma lei già la guarda questa è vera la carta è riuscita la che è stata? la questa sì mettiamola così giudico l'altra l'altra attraversa tieni stretta stai dietro stai dietro stai dietro stai dietro vado a prendere un'altra carta per i migliori stai dietro basta stai dietro stai dietro oh dio ma oh aspetta aspetta giro la carta come è possibile? dica mio scan no 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 stai dietro come ti chiami? Greta Greta oddio prendi la carta balsiasi 3 quadri guarda e ricorda fai vedere tutti i 10 quadri ok avete visto? ce l'avete tutti i 10 quadri? i 10 quadri? olè olè riproviamo tu invece? marica ma sì cos'è? dimmi stop quando vuoi stop va? prendi e fai vedere tutti il lasso di fiori fallo a vedere a tutti io il lasso di fiori? sì ti spiego vabbè lì l'ha vista così eh ma lui no ti fallo vai vai lui l'ha vista quando l'hai fatta vedere la coda spiego perché voi guardate la carta quando voi guardate la carta io posso capire che la carta è ultima volta ultima volta ultima volta ma fai capire vai 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 io ho visto che hai guardato quando l'hai la girata stai a vedere eh stai a vedere eh cosa vuoi? stai facendo video su youtube su youtube su youtube dimmi stop quando vuoi qua prendi la carta ma non guardarla subito ok io non posso capire chiudi gli occhi ma ecco andiamo a vedere dai ok ok vai ok vai una carta rossa si è rossa è rossa è rossa chiedi lì il numero fuori eh si numero c'è un numero pari si si uno due tre cin sei fuori vi dico ehm ringrazio tutti per aver partecipato al video lo vedete tutto in descrizione i loro nomi gli account instagram ah pregiunta se non mi seguite in descrizione c'è il mio account andate a seguirlo è stata una giornata stupenda abbiamo condiviso tantissime cose e ho imparato tantissime cose spero che anche loro hanno imparato qualcosa come ho detto commentate iscrivetevi se non mi siete ancora iscritti perché è importante ogni venerdì ricordate che ogni venerdì alle 15 tornate in questo canale tanto mi trovate sempre qua non vado via e ci vediamo al prossimo perché il video finisce qua anche se è durato poco però ci vediamo al prossimo ciao